Rimessa laterale in zona d'attacco, Salamone Questa volta forse palla Guai Lati Castaldello per Guai Lati, Guai Lati lancia per De Gaubio Ottimo controllo, numero di nordese, tre contro due Guai Lati, Castaldello, Castaldello De Gaubio Liamo Rosa, Liamo Rosa, fissa l'espituzione Metta, Fens, Milo Pozzi Cerca di nervosire il capitano del Villorba Del Piero, calcio Del Piero La para, la para doppia parata di Cozzi Sicuramente di aprire la partita E anche la solidità numerica non è Salamone se ne va, Salamone Venier Del Piero di partenza, tre contro due Del Piero, Del Piero, Del Gaudio Calcio Del Gaudio, finalmente Lui da qua, Cozzi, questa volta Questa volta Del Piero La palla esce sulla destra La porta di Fozzi che rimette subito in gioco Garantomello sbaglia Bortolin la mette in mezzo Errore questa volta Della rettoguarda la giocatore Garantomello regala palla Bortolin che si libera del suo mercatore La mette in mezzo Alla corrente del Piero Che in semiscivolata Fa due a due Bortolin, Gastaldello Garantomello in banda per Del Piero Altro sinistro Del fronte d'attacco milordese Vai lati, Gastaldello Gastaldello finta Va sul fondo La mette in mezzo Del Piero Del Piero 3 a 2 milorda 3 a 2 milorda 3 a 2 milorda Secondo tempo Meraviglioso Grazie a tutti 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 Grazie a tutti.